Voci.fm, il sito delle voci. Il mito di Rocky non muore mai. Lo dimostrano i sei film dal 1976 al 2006 e i recenti spin-off che proseguono questa saga intramontabile. Ora il protagonista è Adonis Creed, interpretato da Michael B. Jordan, ma l'attenzione rimane sempre sul nostro Rocky Balboa, creato e portato in scena da Silversa Stallone, tanto da rendere questa nuova pellicola del 2019 sia un seguito di Creed nato per combattere, sia di Rocky IV. Oggi parliamo di Creed II. 1985. Il campione sovietico Ivan Drago affrontava in una sfida amichevole tra Stati Uniti e Russia l'ex campione Apollo Creed, ma l'incontro finisce in una tragedia per via della morte di Creed. In seguito Rocky affronta Drago in Russia riuscendo a portare a casa la vittoria contro il suo avversario. 2019. Il figlio di Ivan, Viktor, viene cresciuto nell'odio, diventa un pugile e vuole affrontare Adonis Creed, figlio di Apollo, nel frattempo divenuto campione mondiale dei pesi massimi. Adonis vuole accettare la sfida per riscattare la memoria del padre, ma Rocky Balboa, nel frattempo diventato il suo allenatore, non è d'accordo, preoccupato per la nuova minaccia che il suo pupillo dovrebbe affrontare. Il film riapre l'epopea di uno dei più famosi capitoli del pugile di Filadelfia, riportando Dolph Landgren al ruolo che lo rese famoso più di trent'anni fa, mentre passa il testimone al suo erede in questo scontro epocale dove il messaggio più importante è il riscatto dei padri per mano dei figli. L'edizione italiana è curata da Massimo Rossi, che riprende il ruolo del direttore dopo il precedente Creed e riconferma il cast della pellicola precedente. Per quanto riguarda il nuovo cast troviamo Gabriele Sabatini su Victor Drago, ma soprattutto il ritorno di Alessandro Rossi su Ivan Drago, che iniziò parallelamente a Landgren la sua carriera di doppiatore con la celebre frase «Io ti spiezzo in due». Un film da vedere per chi come me è cresciuto con la saga di Rocky, che ancora oggi dimostra che la voglia di lottare e di non arrendersi è più forte di qualunque difficoltà. Continueremo ancora a parlare di cinema e naturalmente di doppiaggio sempre qui, sul blog di Voci.fm, il sito delle voci. Un saluto da Alessandro Delfino.